C'è raggiunto il presidente della Libriano Games, Giovanni Delicato, che lo salutiamo. Buonasera. Allora, presidente, un pareggio possiamo dire giusto per quello che si è visto in campo? No, un giusto non penso, perché abbiamo tirato quasi 20-30 volte in botte. Il loro portere è stato bravo, noi ci siamo mangiati una marea di gol avanti alla Porto, se non si insegna il calcio è questo. O poi un minimo errore che noi facciamo, prendiamo il gol, non lo so, abbiamo un po' di sfortuna, cosa? L'assenza di Lentini e Totoro come sono giustificate? No, che non sono problemi familiari, uno e l'altro di lavoro, non potevano venire. Diciamo che comunque, tirando le somme, è finito il girone di andata, la Libriano Games non ha espresso il calcio che l'anno scorso ha convinto. No, no, come ora abbiamo fallito, due anni che arrivavamo bene, in questo giorno di andata, niente. Gli ho fatto 3-4 punti, non ci aspettavamo questo. Cosa manca secondo te per far ritornare la vittoria in casa a Librino? Io non lo so, io mi metto ai partiti fuori, insomma giochiamo, il gioco lo facciamo, creiamo tanto, ma se non si insegna, tutto qua è disorso. Oggi abbiamo visto anche un di prima ancora appannato, forse ancora la condizione atletica non è quella delle migliori. Sì, ma poi anche viene da un infortunio dove gioca lui e come ora ancora si deve riprendere. Faccio la stessa domanda che ho fatto al capitano della Sparta, secondo te, tirando le somme da questo girone di andata, vedendo le squadre che avete affrontato, la possibilità di passare il turno è concreta? Sì, la possibilità ce l'abbiamo. Oltre la prima in classifica già se n'è andata, gli altri ce la possiamo giocare. Fino ad ora l'avete equilibrato il girone. In apertura di mercato che riapre da lunedì fino al 9 giugno ci saranno movimenti in casa Librino? Ancora non si sa, vediamo, devo parlare con il capitano Lentini per vedere qualche situazione, qualche giocatore se non voglio niente più. Vediamo. Poi se dobbiamo fare qualche cosa, che si deve cambiare anche la testa giocando, ci vuole l'impegno prima di tutto. Benissimo, ringraziamo il presidente Indelicato, linea allo studio.